Ho visto un vestito una volta in un negozio che veniva vestito da sposa. Questo vestito era caduto un po' dal manichino, in vetrina. E si era un po', noi i napoletani diciamo mappucciato, in basso. Mi ha colpito molto e su questo vestito ho cominciato a ragionare. Le storie sono così, nascono da un'immagine, da una parola, da una canzone. Il matrimonio lo hai visto come una tappa sociale, più o meno obbligatoria. Una fase per diventare la signora ricca e annoiata che volevi diventare. Solo che hai scelto la persona sbagliata. Non che tu non fossi cosciente di questo, nulla ti è stato nascosto, nulla ti era celato. Tutto chiaro, hai sbagliato a scegliere tutto qua. E' per questo che sei morta. Come sempre faccio per il Bastardi di Pistolo Falcone, da un evento collegato all'omicidio, su cui loro indagano, io declino quel concetto su tutte le vite dei personaggi. Quindi viene trovato quest'abito da sposa che galleggia sul mare davanti al Palazzo Donnanna, quindi proprio nei paraggi, e una ragazza nuda, morta, in una delle grotte che danno sul mare sotto Palazzo Donnanna. Questa ragazza si scopre essere stata uccisa il giorno prima del suo matrimonio. Matrimonio che peraltro lei doveva fare con un ragazzo che appartiene a una famiglia della criminalità organizzata, ma che è uscito da questa famiglia che ha una vita assolutamente esterna a quella della criminalità organizzata. Tutte le indagini chiaramente riflettono la problematica del matrimonio. Quindi tutti quanti loro si ritrovano di fronte all'idea del matrimonio nelle varie forme in cui loro l'hanno dovuta, l'hanno vissuta, o la dovranno vivere, o la vorrebbero vivere, o non la vorrebbero vivere. Quindi è divertente andarsi a vivere le loro vite in rapporto a questo evento. C'è molto di nuovo, c'è questo personaggio nuovo che è Elza, che è una bellissima vicecommissaria torinese, che è entrata in vuoto nel libro precedente di Imbrasardi e che adesso conosciamo poco poco più da vicino. Cambia un po' la situazione di Romano, anche quella di Loiacono, anche se Loiacono in questo romanzo è un po' sullo sfondo, e meno presente. Ci sono Palma e Ottavia, insomma tutte le loro storie, Alex, tutte le loro storie, è un romanzo molto al femminile. Anche la soluzione del caso è fortemente al femminile. Io ho voluto questo giorno, che è il più bello della vita di una donna in genere, l'ho voluto riferire a tutte le donne che fanno parte del gruppo di Imbrasardi di Pizzo Falcone. Quindi è una bella storia del femminile. Ma la serie è una bella storia. La terza serie comincerà a girarla adesso, in questo mese. Prenderà i soliti sei mesi pieni di girato. Sarà una serie... la storia della terza serie è forte. È una bella storia. Quindi sono convinto che quelli che hanno apprezzato le prime due apprezzeranno anche la terza, e sono convinto che raccatterà anche qualche spettatore nuovo lungo la sua strada. Ho visto un vestito, una volta, in un negozio che veniva vestito da sposa. Questo vestito era caduto un po' dal manichino, in vetrina. E si era un po' un napoletano, diciamo, mappucciato, in basso. Questo vestito che doveva essere così... I vestiti da sposa sono magnifici, no? Sono di straordinario impatto. Vederlo lì un po' sgualcito, un po' caduto, mi ha colpito molto. E su questo vestito ho cominciato a ragionare. Le storie sono così, nascono da un'immagine, da una parola, da una canzone, da un ritornello. E poi cominciano, come le perle, a mettere attorno strati, un po' alla volta nella testa di un autore, finché l'autore lo deve scrivere per forza. Grazie a tutti.